Un progetto strategico per Fano che libera la linea di costa e la città storica da quei binari contribuendo ad uno sviluppo economico, turistico e sociale irripetibile è quanto riporta l'atto di indirizzo politico deliberato questa mattina dalla giunta del sindaco Seri che conferma l'unione di intenti ma da alcune condizioni che i centri abitati vengano tutelati dal nuovo tracciato e che vengano salvaguardate le esigenze paesaggistiche, ambientali e di inquinamento acustico. Le risorse che il ministero ha destinato per l'arretramento della dorsale adriatica montano 5 miliardi di euro ma a questa cifra potrebbero aggiungersi altre risorse L'obiettivo è quello di valorizzare la costa est del nostro paese previsti anche interventi di potenziamento e velocizzazione che consentiranno entro il 2026 di ridurre di 30 minuti i tempi di percorrenza fra Lecce e Bologna per i sindaco Seri sarà necessario un confronto con tutte le forze politiche e con i comuni limitrofi affinché non venga persa un'occasione storica E sotto gli occhi di tutti vedere cosa significa avere la ferrovia che ti attraversa che fiancheggia tutti i centri abitati del lungomare c'è una grande opportunità, ci sono risorse vere per poter arretrare e allora su questo ci deve essere una convinzione, un appoggio non è che può essere il sindaco da solo che si muove in maniera autonoma e oggi ho voluto rimarcare da parte della Giunta che all'unanimità ha votato questo attento di diritto che riconosce una grande opportunità questa possibilità di arretramento e domani incontrerò anche tutti i capi gruppo dove voglio che anche loro condividano insieme a me in modo tale che sia un'opportunità di tutta la città, di tutte le forze politiche non è di uno o dell'altra perché è un tema talmente importante io avevo un compito, quello di fare in modo che Fano non rimanesse esclusa Fano è inclusa a tutti gli effetti ci sono le condizioni questa volta per farlo davvero con questo atto noi poniamo una bandiera, un punto fermo di volontà è chiaro che su questo ovviamente c'è il ragionamento con la Regione e con gli altri comuni e la strategia poi le scelte le fa sempre il Ministero e RFI però in questo caso possiamo dire che Fano è nella partita Sono ancora da valutare invece se è il tracciato che la nuova stazione per i quali dovranno essere seguite le direttive dettate anche da RFI dal punto di vista tecnico, logistico e ambientale la stazione ad esempio non potrà allontanarsi troppo dal centro storico per questo si ipotizza la zona di Chiaruccia Il destino poi della tratta di smessa? Quella sarà una grande occasione di riqualificazione in chiave green ovviamente non dovrà dare spazio ad altro cemento ma sarà mobilità leggera, sostenibile sarà ripensare anche i servizi e la chiave pensate solo quello che può rappresentare tutta la parte sotto le mura e quale prospettiva nuova ci può essere per il lungomare e ovviamente anche per la parte sud come per la parte nord dove la ferrovia crea un grosso impatto quindi sarà sicuramente, su questo ovviamente ci stiamo lavorando daremo anche un incarico per elaborare delle proposte concrete che poi ovviamente sottoporremo agli organi competenti